Salve ragazzi, volevo parlare un attimo di olio, di olio ma nel senso di percentuali e un po' anche di qualità, ma soprattutto di percentuali, c'è un po' di confusione, cioè quantomeno bisogna, perché la gente pensa che l'olio sporchi, bisogna fare un discorso particolare qui. Allora, l'olio non è che sporca l'olio, perché se usiamo dell'olio buoni, con le specifiche sintetici, con le specifiche che sono riportate qui, questi sono oli che sono puliti perché già hanno il detergente. Probabilmente ce l'ha anche questo il detergente, però attenzione, questo qui ce l'ha le specifiche, non dico di no, perché ce l'ha, però se un olio costa 8-9 euro, è molto liquido, insomma, questo qui, diciamo che come qualità non può essere a livelli di questi, impossibile. Però magari se è utilizzato su macchine un tagliaerba, su roba che gira poco, o su macchine del 1990-80, che a quegli anni lì non c'era un olio così, erano tutti peggio di questo qui. E' chiaro che in quelle macchine lì anche quest'olio qui è funzionale, però se noi prendiamo delle macchine di ultima generazione, ci vuole dell'olio di sostanza, di qualità migliori, e anche un po' più densi, perché come vedete, questo qui è acquarella, questo qui è già un po' più sodo, questo è ancora più sodo. Ve lo posso garantire che questo, quando si sciacqua, è molto più sodo, ancora più sodo che questo, ma anche questo è buono. Allora, se noi facciamo la miscela al 2, con un olio come questo, va bene, che è acquarella, e non siamo coperti assolutamente, soprattutto su macchine alti giri, raffreddati aria. Una macchina, alti giri, oppure, anche se non ha alti giri, ma lavora sotto il sole a 30 gradi, tribondeggio e spugliatore, non è l'olio indicato, soprattutto al 2. Ma la gente la fa al 2 anche con questo, o con questo, e già va meglio, già va meglio, però non siamo al massimo, perché? Perché bisogna tenere in conto molte cose, la carburazione, se noi abbiamo una carburazione un po' magrina, e abbiamo un olio anche di qualità, come questo, come questo, possiamo grippare o fare delle usure lo stesso, perché al 2, con carburazione magrina, siamo precisi, si può rompere il motore. Allora, visto che questi oli qui hanno il detergente, e ve lo posso garantire che il pistone è lindo, a chi lo vuole vedere ve lo faccio anche vedere, c'è il video, visto che sono oli detergenti, tutti e due, visto appunto che ne incollano le fasce, assolutamente no, perché farla al 2 quando siamo più coperti e più protetti al 3%? Dopo saltare a fuori quello dice, ma la casa ti dice il 2, ma la casa deve rispettare le normative europee, non ti può dire al cliente, fa la miscela al 3, non te lo dirà mai, quasi nessuno dirà a farla al 3, perché loro sono stati istruiti a dire al cliente che la miscela va fatta al 2, perché la normativa europea parla così, punto, miscela al 2, ma al 2 in un motore, alti giri, raffreddato aria, è poco, è poco. E in più, dove l'abbiamo i vantaggi se la facciamo al 3? Allora, le membrane rimangono più morbide, perché è questo che vi tiene le membrane morbide, non la benzina, la benzina secca le fa venire tec come io vesti a tele di ombrello, va bene? E' l'olio che tiene le membrane morbide, che cosa è che tiene i tumi morbidi? E' l'olio, che cosa è che salva i cuscinetti e le fa usurare meno? E' l'olio. Che cosa è che nel paraolio si usura meno anche il paraolio nell'albero? E' l'olio, perché bisogna partire dal presupposto che la carburazione, e cioè il rapporto schetometrico, tiene freddo il motore, perché più è grasso e più il motore è freddo, ma non è più unto, perché quello che lubrifica è l'olio. Allora bisogna dire, la benzina raffredda, e cioè il rapporto schetometrico raffredda, e l'olio lubrifica, perché se fosse vero il discorso che con la carburazione grassa non grippi mai, allora te fai la miscela al 0,5 oppure levaci l'olio e farla per la grassa di carburazione, vedrai che la benzina prima o poi ti fa grippare lo stesso anche se sei grasso, perché è così, perché la benzina raffredda, la miscela raffredda se sei grasso di carburazione. Ma non lubrifica, quello che lubrifica è l'olio. Non bisogna mai scordarsi di queste due cose qui. Il rapporto schetometrico serve per raffreddare dentro il motore più che per lubrificare, perché è un motore che è più freddo, ha meno dilatazione, e di conseguenza il mantello del pistone non va a toccare il cilindro e non si grippa, perché è quello il grippaggio. Io parlo del grippaggio del pistone in camera di scoppio, perché si può rompere il motore anche per i cuscinetti. Ma che cos'è che salva i cuscinetti? È sempre l'olio, sempre l'olio. Mi raccomando, separiamo le due cose. La miscela raffredda in camera di scoppio e l'olio lubrifica. Bisogna partire sempre da quella cosa lì. In un motore due tempi, raffreddato aria, dove le temperature sono molto elevate, vuoi per i giri, vuoi perché ci lavoriamo sotto il sole, fate all'altre, mi raccomando, la miscela, e vedrete che dio campanile, avrete i motori perfetti, perfetti con migliaia di ore come ce l'ho io, perfetti. Anche quelli ginesi, io questi li faccio fare tantissime ore, eppure vanno. Vai ragazzi, adottate questo sistema qua, un salutone. Vai ragazzi, vai ragazzi.